Ciao, mi chiamo Maddalena, sono un'insegnante del Cesaristica dal Custerlengo. Ho visto questo spettacolo a dicembre e oggi nella nostra scuola. È uno spettacolo sicuramente valido perché una testimonianza così diretta sicuramente innescherà un po' di autoconsapevolezza, di autocoscienza nello studente che magari un pochino sta percorrendo magari un percorso difficile. Anch'io insegno in questa scuola, è la seconda volta che vedo lo spettacolo perché l'ho già visto a Milano e ho letto anche il libro di Enrico e mi ha toccato me in prima persona e penso che abbia toccato anche molti dei miei studenti. Lo consiglio e sicuramente lo consiglierò anche ai miei figli e mi servirà per parlare con loro di questo argomento così importante.